buonasera 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 questa sera sono proprio contento perché ho trovato questa bottiglia che per me è una novità assoluta questo vino si chiama petit manseng dice ma che è ma infatti non l'avevo mai sentito nemmeno io l'ho trovato al supermercato quindi lo potete trovare anche voi è un vino del casale del giglio che è una casa del lazio sta vicino latina loro fanno molta sperimentazione io sono andato a trovarli e hanno un sacco di vitigni si vedono queste bottiglie che hanno testato hanno degli enologi bravissimi e hanno una gamma molto ampia di vini anche con vitigni appunto francesi hanno il petit manseng il bionier hanno il petit verdot lo Shiraz e così via e questa qua non l'avevo mai provata e quindi questa sera l'andiamo a provare insieme questo vino è un vino che al supermercato si trova intorno ai 10 11 euro e che altro dire è un vino che fa 13 gradi e mezzo guardate l'etichetta che bella li potete anche anche andare a trovare direttamente quando fanno delle visite in cantina comunque andiamo a vedere eccolo qua un bellissimo giallo oro e andiamo a sentire al naso ha un naso bellissimo proprio bello ampio si sente proprio la profondità di questo vino la complessità che io non avrei veramente pensato di trovare in un vino che costa intorno ai 10 euro questo è veramente si sente un'originalità una personalità che è tipica dei vini molto molto blasonati ecco qui si sente molto la frutta tropicale si sente addirittura qualcosa di sotto bosco quasi un tartufo si sente del miele anche del del tè andiamo ad assaggiare bellissima bocca entra e prende tutto il palato tutto il cavo orale e ha un retro gusto leggermente amarogno leggermente ammandorlato ed è molto minerale forse pecca un po in in sapidità ma c'è una una pietra focaia che ritorna c'è una mineralità e questa questa nota funginea che gli conferisce una una personalità che veramente un'originalità che non ho gusti e sapori che non ho sentito su su altri bianchi quindi petit manseng casale del giglio 13 gradi e mezzo questo è un vino che per il prezzo che ha io gli do un bellotto e vi saluto e vi auguro una buona serata alla vostra salute ciao